economia si chiude un anno di esportazioni in calo le imprese vanno a caccia di nuovi mercati dopo due secoli pesaro raccoglie un dipinto raffigurante la beata michelina protettrice della città le mucillagini arrivano in consiglio comunale approvate le misure per monitorare il fenomeno avvistamenti di lupi a fano comune regione installano un sistema di fototrappole teatro santi di bottega 12 eventi per chiudere un anno di grande fervore culturale buona serata benvenuti al nostro telegiornale oggi è mercoledì 13 novembre apriamo questa edizione occupandoci del di questo anno 2024 dell'economia marchigiana che va chiudendosi col segno negativo per quanto riguarda le esportazioni delle nostre imprese uno scenario incerto di cui ci parla il segretario regionale della cna moreno bordoni che abbiamo invitato nei nostri studi una situazione che le nostre imprese stanno vivendo con preoccupazione con incertezza e con un relativo calo delle proprie attività questo dovuto a elementi esterni come gli eventi bellici che sono assolutamente imprevedibili e quindi per un imprenditore incertezza pura ma anche eventi un po più strutturali e faccio riferimento ancora la difficoltà a reperire materie prime a costi normali la difficoltà che abbiamo per quello che riguarda l'inflazione che non è scesa così velocemente come era salita e anche per ancora il costo del denaro che è molto alto la difficoltà soprattutto per le aziende di accedere al credito queste sono tutte le situazioni che hanno reso il momento delicato e difficile però tutto questo purtroppo si è riverberato nei dati dell'export che per la prima volta nella nostra regione dopo tanti anni di positività accusano un leggero rallentamento questo ha generato un'incertezza generale che cerchiamo di ovviamente tamponare e di anche così limitare con la possibilità di trovare nuovi mercati lo abbiamo fatto anche come camera di commercio attraverso tecne l'azienda speciale che si occupa all'interno della camera di commercio di mobile e arredamento ma anche di meccanica e ultimamente siamo reduci da un viaggio molto importante a singapore in cui abbiamo presentato una collettiva di aziende marchigiane del design e delle complementi di arredo ovviamente di altissimo livello hanno avuto un ottimo successo i nostri imprenditori tanto che ci hanno chiesto per il 2025 di prorogare questa opportunità e di ampliarla sempre di più considerate che singapore è uno straordinario hub in asia perché fa parte di asian un'area di libero mercato che comprende potenzialmente 4,4 miliardi di clienti quindi abbiamo bisogno di ridisegnare anche l'economia rispetto alle situazioni che la geopolitica ci presenta e come associazione di categoria come camera di commercio siamo pronti a farlo c'è un comparto produttivo che vi preoccupa più di altri e se ci sono invece alcuni che mostrano dati sorprendentemente incoraggianti si facciamo due casi il caso che ci preoccupa un po è la meccanica che negli ultimi anni è sempre stato il settore di riferimento trainante dell'economia della nostra regione. In questo momento sta avendo una flessione, un calo soprattutto rispetto al contoterzismo molto legato al mercato tedesco che è in gravi difficoltà e quindi il nostro contoterzismo molto specializzato, smart, digitalizzato all'altezza di servire un paese importante nella meccanica come la Germania sta ovviamente un po' rallentando. In contrapposizione abbiamo dati molto convincenti e soddisfacenti per quello che riguarda la nautica che nella nostra regione è diventato un settore di riferimento importante e stabilmente in crescita. Quindi la speranza è che se uno degli elementi negativi che hanno determinato questa incertezza potesse nel prossimo futuro migliorare i nostri imprenditori saranno ancora protagonisti. Abbiamo visto scenario incerto per le imprese, scenario poco rassicurante per i bilanci dei comuni. Dopo una serie di tagli governativi che vengono analizzati ai nostri microfoni dal capogruppo del Partito Democratico, Marco Perugini. La manovra economica del governo Meloni ha previsto una serie di tagli. Tra questi rientrano anche svariati milioni destinati al comune di Pesaro e alle altre realtà amministrative d'Italia. Una manovra poco apprezzata da chi governa la città e che a detta del capogruppo PD Marco Perugini rischia di minare i servizi ai cittadini. Sono molto preoccupati tutti i sindaci che anche quest'oggi hanno ribadito la loro contrarietà a prescindere che fossero di orientamento di centrodestra o centrosinistra per questi tagli. Inutile gli annunci del governo che non abbassa le tasse ma se poi chiedi a comuni un taglio importante vuol dire che noi dovremmo ringraziare il governo Meloni per aver aumentato le tasse anche a Pesaro. Le questioni sono molto semplici. Nel momento in cui i comuni sorreggono i propri servizi e erogano i propri servizi grazie alle tasse e ai tributi dei cittadini e ai contributi dello Stato, nel momento in cui si tagliano i contributi dello Stato o si alzano le tasse dei cittadini o si eliminano i servizi. Il livello dei servizi in questo comune è sempre stato molto importante. Tre quarti del nostro bilancio è dedicato alla crescita delle persone, alle nostre politiche educative e soprattutto al sostegno delle persone. Un taglio di 3 milioni di euro solo nel prossimo anno è la prima volta che si riverifica dopo 10-15 anni di interruzione da parte dei governi di questi tagli. Rinizia questa stagione davvero austera di taglio degli investimenti e sembra anche addirittura una riattivazione del patto di stabilità. Questo ci preoccupa molto, ci preoccupa davvero tanto e ci preoccupa soprattutto l'atteggiamento di questa destra che sia a livello locale che a livello regionale che a livello nazionale in quello che loro dicono essere una figlia istituzionale, non mette in condizione di avere buoni rapporti, ovviamente politici, sta a governi dello stesso colore, ma pur di sostenere un governo nazionale che non si prende la responsabilità di fare delle scelte, fa ricadere queste scelte sui comuni e quindi direttamente sui cittadini. Noi non abbiamo alzato le tasse ma poi ci pensano i comuni a farlo. Il Comune di Pesaro e noi ci impegneremo a livello consigliare nella discussione del prossimo bilancio affinché i servizi vengano mantenuti e soprattutto che i livelli di servizi vengono mantenuti perché ogni servizio erogato da questo Comune è un servizio essenziale per il cittadino. Faremo delle scelte, faremo sicuramente delle scelte prioritarie ma ognuno si deve prendere la propria responsabilità. Arriveranno poi ulteriori tagli, dice il consigliere comunale che per questo lancia un appello a tutti gli amministratori locali. Continuano anche i tagli sulle altre voci di bilancio correnti e ci metteranno in condizione probabilmente di fare delle scelte importanti. Questo vorremmo che non accada e vorremmo che tutti i comuni in questo modo e in maniera corale rappresentino al governo italiano e al Parlamento una protesta univoca a prescindere dal colore politico perché prima vengono gli interessi dei cittadini, prima i servizi ai cittadini che sono sempre più crescenti, poi vengono gli interessi di partito, la propaganda di partito. In questo prossimo servizio invece ci occupiamo di un'opera d'arte recentemente scoperta che raffigura la beata Michelina, protettrice di Pesaro, riportando in città un dipinto che sembra riconducibile alla bottega del grande pittore Urbinate Federico Barocci. Vediamo. Fino ad ora l'unica pala d'altare conosciuta che raffigurasse l'effigie della beata Michelina, terziaria francescana protettrice della città di Pesaro, si trovava ai Musei Vaticani. Fu realizzata nel Seicento dal grande pittore Urbinate Federico Barocci e dal 1820 è custodita in Vaticano. Ora però è spuntata un'inedita pala d'altare riconducibile alla stessa bottega del Barocci. Si trovava all'interno di una collezione privata di un castello del Chianti e ora, grazie alla disponibilità dei proprietari, Pesaro può accoglierla a Palazzo Ciacchi grazie al Comitato Cultura della Confindustria Pesarese per consegnarla ad uno studio scientifico coordinato da Luca Baroni. Due colleghi storici dell'arte di Venezia mi segnalano la presenza di questa beata Michelina da Pesaro nella soffitta di un castello in Toscana. Sembrava troppo bello per essere vero quindi all'inizio non ci ho creduto, poi mi hanno mandato una fotografia di questo affare alto due metri e mezzo e ho detto beh forse vale la pena fare un viaggio fino in Chianti e andare a vedere di cosa si tratta. Più che un ritrovamento si è stato trattato di un graduale avvicinamento perché il quadro aveva bisogno di essere restaurato quindi ci sono stati anni di lavoro e di ricerca prima di arrivare al punto a cui siamo oggi che ancora è un punto come dire non definitivo perché adesso abbiamo il quadro, l'abbiamo a Pesaro, l'abbiamo restaurato, abbiamo la possibilità di studiarlo, capire di cosa si tratta, chi l'ha fatto, i lavori sono ancora in corso. Per noi è stato molto importante però che il lavoro di ricerca e soprattutto di restauro di quest'opera così connessa la storia di Pesaro non venisse fatto in Toscana o a Venezia o all'estero ma venisse qui. Abbiamo lavorato per riportare a Pesaro un'immagine così importante per la storia della città che è anche un po' un modo di risercire Pesaro dell'assenza di fatto della figura di una delle sue beate più venerate perché il dipinto originale di Federico Barocci oggi si trova in Musei Vaticani, viene involato dai francesi alla fine del Settecento durante le guerre napoleoniche e allora il ritorno di questa immagine così venerata a Pesaro sembrava un'occasione simbolica da non farsi scappare sicuramente. La tela fu rintracciata nel 2022 e sottoposta a restauro ad Urbino dalla ditta Isidoro e Matteo Bacchiocca già da anni attiva sulle opere di Barocci. Ora l'opera si apre ad un percorso espositivo dopo essere stata svelata oggi nella sede di Confindustria alla presenza dei vertici dell'Associazione Provinciale e del suo Comitato Cultura e del confronto con gli studiosi Luigi Gallo e Anna Maria Ambrosini Massari attivatisi nel comprendere la connessione con il dipinto dei Musei Vaticani. Il dipinto del Vaticano che è l'originale documentato noto e pubblicato ha gravi problematiche conservative nel senso che è stato molto rovinato dal tempo e quindi vediamo in questo dipinto alle mie spalle più cose di quanto non ne vediamo nell'originale Vaticano. Al momento ma qui mi sto ancora confrontando con i colleghi con il direttore Gallo con la professoressa Ambrosini, con il professor Ferretti riteniamo al meglio delle nostre conoscenze attuali e degli studi ancora in corso che questa sia un'opera concepita all'interno della bottega di Federico Barocci probabilmente eseguita per una commissione da parte di un privato e che si tratti di un oggetto particolarmente utile per capire cosa succedeva all'interno di questa bottega baroccesca. Ci sono una serie di tracce documentarie però anche qui la ricerca è ancora work in progress che suggeriscono che questo dipinto sia quello che poi viene utilizzato nel Settecento per convalidare a Roma il processo di beatificazione della Beata Michelina che viene portato avanti dal cardinal Fabio Olivieri quindi un membro della grande famiglia Olivieri che poi si estingue con Annibale degli Abati Olivieri, altro cittadino di Pesaro benemerito perché fonda la nota biblioteca oliveriana. Se il quadro fosse effettivamente quello avremmo veramente un pezzo di storia di Pesaro non solo per l'importanza storico artistica quindi per l'opera di Federico Barocci ma anche per la storia della città e della sua devozione alla Santa e alla Beata Michelina. Ed ora facciamo un passo indietro all'estate che ci siamo appena lasciati alle spalle, una stagione fortemente condizionata dal fenomeno delle mucillagini che hanno inciso chiaramente su turismo e anche sulla pesca, un tema che è stato affrontato dal Consiglio Comunale di Pesaro che ha approvato una linea condivisa per adottare misure di monitoraggio a contrasto degli effetti di questo fenomeno. Finita l'estate, finite le mucillagini ma il problema non può sicuramente dirsi risolto. Per questo il Consiglio Comunale di ieri ha voluto affrontare il tema per cercare di comprendere come e dove poter intervenire alla fine di scongiurare un'altra estate come quella della 2024 per tutelare la stagione estiva. Quello che si è verificato quest'estate con la fioritura delle mucillagini è frutto, diciamo, una conseguenza di questo cambiamento climatico. Infatti abbiamo avuto temperature dell'acqua altissime già a partire da luglio con temperature che hanno raggiunto 29 gradi e temperature atmosferiche alte e inoltre non dobbiamo sottovalutare il fatto che le precipitazioni abbondanti, intense e concentrate in poco tempo hanno apportato con i corsi d'acqua in mare molte sostanze nutrienti. Quindi tutto un insieme di cose hanno incrementato questa fioritura di mucillagine. La soluzione purtroppo non c'è perché comunque è difficile prevedere quando ci saranno, se ci saranno o se magari, ecco, come si è verificato in altri anni ci sono state e poi sono sparite. Il problema è quello comunque, la soluzione è quella di tenere sotto controllo questo fenomeno. Quindi incrementando monitoraggi, soprattutto non solo nel periodo estivo, che è quello più attenzionato per la balneazione, quindi nel periodo che va da aprile a settembre, ma anche tenere monitorato il fenomeno durante altre stagioni, se soprattutto si possono verificare condizioni climatiche particolari, quindi magari temperature che sono anomale per il periodo oppure eventi atmosferici particolari. Un'altra cosa che si può fare è quella di intensificare i monitoraggi quando, nel momento in cui si verifica il fenomeno, magari andando a studiare, anche a studiare analisi per verificare la composizione delle mucillagini. Tutto questo però deve essere in collaborazione con enti di ricerca, enti preposti, enti a supporto delle amministrazioni. Ed ora andiamo a parlare di un altro comune a grande vocazione turistica, come quello di Gabice Mare, che assieme a Riviera Banca scommette su un nuovo percorso di sviluppo che punta su benessere e sostenibilità. Benessere, transizione sostenibile, ESG, il percorso del turismo a Gabice Mare con Riviera Banca. Questo è il titolo del convegno che si è tenuto questa mattina presso il Mississippi di Gabice Mare, che come la stessa amministrazione comunale racconta, ha voluto legare due aspetti da sempre simbolo del comune, ovvero la sostenibilità ed il turismo. Sì, siamo qui al Mississippi, un luogo simbolico e iconico per tutto il nostro territorio che deve già farci fare delle prime riflessioni, perché mentre alle spalle della struttura abbiamo la città turistica che si è sviluppata in tutti questi anni e legata molto ovviamente anche ai profili materialistici dello sviluppo economico, di fronte, di fianco abbiamo il mare, abbiamo il parco, abbiamo il monte del San Bartolo, abbiamo il verde, abbiamo la spiaggia e quindi oggi noi abbiamo il dovere di rivolgere la nostra attenzione a quelli che sono tutti questi aspetti ambientalistici, naturalistici, che ci impongono poi di affrontare, di camminare verso una transizione ecologica sia per quanto riguarda la rete delle imprese, sia per quanto riguarda noi istituzioni. Quindi ci sarà tanto da lavorare, già in questi anni si è mosso, il nostro comune fa parte della rete dei comuni sostenibili sostenibili già da qualche anno, quindi questo è un grande valore aggiunto che ci stimola a fare sempre meglio, anche perché abbiamo degli obiettivi da raggiungere puntualmente, rispettando ovviamente tutti i criteri minimi ambientali, quindi sono quelle sfide del futuro che siamo pronti ad accogliere. Il tutto diventa possibile solo con un lavoro di squadra e mettendo in gioco la comunità, come afferma lo stesso direttore generale di Riviera Banca. Ci fa molto piacere questo evento oggi a Gabice e credo che sia molto significativo perché ci dice che è un progetto di comunità, è un percorso che abbiamo fatto insieme a Visti Gabice e che coinvolgerà gli operatori del territorio. Certamente il tema è importante, coniugare la sostenibilità e il turismo, ma l'aspetto che mi preme sottolineare è che è un percorso che possiamo fare insieme. Difficilmente ognuno nel momento in cui si approccia al tema della sostenibilità, anche se ben intenzionato, stenta nel capire, nel comprendere, nell'affrontare, insieme si può fare. Quindi Visit Riviera Banca per il territorio e per il turismo. Il convegno è quindi un'occasione dove creare questa comunità, oltre che affrontare un tema tanto importante per l'Unione Europea, quanto per le realtà turistiche del comune stesso. Il turismo è un mercato molto particolare, dove l'innovazione è sempre all'ordine del giorno. Oggi come oggi il turista è molto attento ai temi della sostenibilità, ai temi dell'ambiente e quindi anche il turismo in generale deve accodarsi a questa esigenza. Oggi siamo qua, insieme a Riviera Banca e all'amministrazione di Gabice Mare, a proporre un convegno che parla di tutto quello che sono i criteri che l'Europa ci imporrà da qui ai prossimi anni e quindi per rimanere al passo coi tempi. Dopo le diverse segnalazioni di lupi o presunti tali nel territorio di Fano, il comune ha deciso di installare un sistema di fototrappole per mappare la presenza di questi animali sul territorio. E' questa la decisione presa dal comune in un sopralluogo nelle zone delle segnalazioni, assieme all'assessore regionale Andrea Maria Antonini e ai referenti del CRAS, Centro Recupero Animali Selvatici. Durante l'incontro è stata sottolineata l'importanza di monitorare la presenza dei lupi per ottenere dati precisi sul numero di esemplari, il sesso e i percorsi abituali, circostanziando in maniera più efficiente e adeguata le richieste da presentare al Ministero per attuare le misure di contenimento. Le fototrappole verranno posizionate lungo il Canale Albani e lungo l'ex ferrovia, oltre che in zona San Lazzaro, Aeroporto, Vallato e Sant'Orso. Dopo diverse richieste di sicurezza stradale da parte dei residenti del quartiere pesarese di Santa Veneranda, il comune decide di realizzare una rotatoria in località Ponte Valle, all'intersezione con strada di Valle Tre Sole. Lo ha annunciato in Consiglio Comunale l'assessore con delega alla viabilità, Sara Mengucci, ricordando che dopo aver realizzato una strettoia per rispondere parzialmente al problema, si è giunto a un accordo per la cessione di un terreno, fin qui privato, conseguendo un progetto da 250 mila euro per la realizzazione della rotatoria e di 10 parcheggi. Venerdì 15 novembre, a partire dalle 14.30, all'Hotel Charlie di Pesaro, si terrà il convegno dal titolo Violenza domestica e abusi familiari, emergenza sociale e risposta istituzionale, il convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro e dall'Associazione Avvocati per la Famiglia e i Minori. Domani, giovedì 14 novembre, ricorre la giornata mondiale del diabete, una ricorrenza che verrà onorata dall'Associazione Diabetici di Pesaro, sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, con gazebo informativi in cui sarà possibile fare uno screening gratuito della glicemia per valutare il rischio di sviluppare il diabete attraverso una consulenza qualificata dei medici della Diabetologia di Pesaro. Già da Cerpolloni, atleta pesarese, recente medaglia d'argento agli Adaptive CrossFit Games svoltisi negli Stati Uniti, è stata oggi premiata col plauso della città, consegnato dal sindaco Andrea Biancani e dall'assessore allo sport Mila Dell'Adora, per sottolineare non solo il successo sportivo, ma soprattutto la determinazione di un atleta che da due anni combatte con la sclerosi multipla. Un altro plauso della città è stato consegnato dallo stesso sindaco Biancani allo storico barbiere di Piazza Redi, Restilio Mazzoli, per onorare i 50 anni di attività lavorativa nel suo locale a conciature maschili Pippo, che originariamente si chiamava Mario e Pippo. Ed ora andiamo a parlare del Teatro Santi di Bottega, un luogo che ha creato grande fermento culturale a Vallefoglia in questo 2024, iniziato col taglio del nastro alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e che si conclude con un mese e mezzo ricco di eventi. Fu inaugurato dal taglio del nastro del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo a gennaio a Vallefoglia la prima delle 50 settimane da Capitale della Cultura dedicate ad ognuno dei 50 comuni provinciali nel progetto di Pesero 2024. Dieci mesi dopo non si è affievolito il fervore culturale attorno al Teatro Giovanni Santi di Bottega, che ha continuato ad essere catalizzatore di tante iniziative e che oggi ha visto presentare il rush finale di questo 2024 nelle proposte pensate dal Comune e coordinate della Filarmonica Gioacchino Rossini. Ci auguriamo che una struttura di questo genere diventi un vero e proprio motore culturale dell'intera vallata. La sua vocazione è questa. È iniziato a gennaio con una settimana bellissima di uno spettacolo al giorno, tutti pieni, perché la popolazione sentiva il bisogno di un luogo di questo genere, dove fare cultura, dove fruire della cultura, ma anche dove proporre cultura. Infatti tutte le proposte di questa rassegna e anche delle prossime provengono dal territorio. Questa è la cosa importante. Il teatro può fare emozionare, il teatro fa divertire, il teatro fa riflettere, per cui anche questa programmazione che è stata presentata in questi primi due mesi ha tutte queste caratteristiche. Quindi si passerà il periodo, le programmazioni cinematografiche, che comunque sono spaccati sulla giornata internazionale sulla violenza delle donne, l'altro è proprio uno speccato del territorio. Quindi il teatro è veramente fondamentale per un territorio. Abbraccia tutti, quindi tutte le generazioni, quindi dai bambini agli anziani a tutte le persone, a tutti i generi e tutte le età. Sono temi importanti che vedranno il coinvolgimento delle scuole, dei ragazzi al mattino, quindi approfondimento sul Volponi, a cento anni della sua nascita, dello scrittore. Poi il tema della linea gotica, della storia, quindi del nostro territorio, della guerra, quota 204 il progetto. Dopodiché ci saranno anche altre iniziative la sera, compagnie dialettali, ringraziamo il Cavalcavia di Pesaro, che farà due serate, sabato e domenica, 23-24 novembre. Ci saranno poi dei musical, una tre giorni, giovedì, sabato, 12-13-14 dicembre. Si chiuderà il programma con delle iniziative rivolte al Natale, con collaborazioni storiche del nostro territorio, il centro danza performance di Elisa Vergoni, che si sta fermando prepotentemente, anche con la collaborazione con Sanremo, insomma, annunciata pochi giorni fa, e anche con il corpo bandistico Giovanni Santi di Vallefoglia, che chiuderà il 22 dicembre con il classico concerto di Natale. Le attività, non solo di questi due mesi, ma anche le attività culturali e teatrali dei prossimi mesi fino al prossimo estate, stiamo già pensando gennaio, febbraio, marzo, aprile, nei prossimi mesi, abbiamo la fortuna di avere due teatri. Stiamo ragionando insieme alla Proloquo, alla quale abbiamo affidato il Teatro Branca, con 150 posti a Sant'Angelo di Vallefoglia, la programmazione dei due teatri, che consente alla città di Vallefoglia, in città industriale, di fare un salto culturale enorme. E concludiamo quest'edizione parlando di sport, ricordandovi che tra poco alle 20.45 torna in campo la VL nella trasferta di Livorno, valevole per l'undicesima giornata del campionato di basket di Serie A2, che potrete vedere domani sera su Rossini TV alle ore 22. Ieri sera invece scese in campo in turno infrasettimanale di CalServis Pesaro nel massimo campionato di calcio a 5, ottenendo a Orte il primo punto dell'anno, a interrompere la striscia negativa di quattro sconfitte nelle prime quattro partite. È finita 3-3 la partita contro l'Active Network Viterbo. L'Ital Service si è illusa, chiudendo il primo tempo in vantaggio 2-0, grazie alle reti di Barichello e Saponara. Nel secondo tempo la grande rimonta dei laziali, che vanno sul 3-2, prima del providenziale 3-3 definitivo di Barichello. Eccoci arrivati alla fine di questa edizione. Carissimi amici, restate con noi, perché tra pochissimo, subito dopo questa edizione, vediamo lo spazio dedicato alla natura della cultura, che ci racconta a natural questo spazio torso, una mostra che potete seguire e vedere. E poi andiamo alle 21 a scoprire Venezia, la Repubblica dei Doggi, con tantissime iniziative e novità riguardo questa meravigliosa città. E poi alle 21.30 vi facciamo rivedere, perché l'avete richiesto tantissimo, questo approfondimento dedicato al bullismo e al cyberbullismo, un problema da risolvere con degli ospiti davvero d'eccezione. E poi domani vi aspetto con la nostra rassegna stampa in diretta alle 7.20. E domani, come sempre, come tutti i giovedì, Rossini TV, partner ufficiale della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, vi propone la partita alle ore 22. Prima chiaramente c'è insieme a Canestro il nostro programma in diretta TV e subito dopo alle 22 potete vedere la partita, appunto, che si giocherà tra l'altro stasera. E allora buon proseguimento con i programmi di Rossini TV. Noi ci ritroviamo domani mattina alle 7.20.